per parlare trovo ce l'inno o no è ma perché sei venuto da me tu hai detto il fama se mio te ne vede un po che offre non gli fa tre i colpi al bambino ma c'è il colpio piccolino io c'ho più 90 adesso mi direi com'ora c colpio piccolino subito ora che fino avanti gli sto davanti di brutto e nella modalità romansicce ma si trova che un serio c'è anche su salvo al mondo c'è una minchia di zanzaro ragazzi che scassa del cozzo guarda guarda la cinti 90 oro poi la mitaglietta ti do quello viola non sai usare ciao non lo vuoi mai questo deve dire ho ragione io comunque raga ha ragione non l'ha venuto perché la ragione di sbirri ve lo sapete questo che è la ragione degli sbirri ma questo è da zero di sbirri mi spiace quello di ragno buon bene sembrava comunque però c'è una bozza da 50 ragazzi eh dai la vincenti che non ne ha eh lo l'ho lasciato dovete sapere il oro ah vero ho solo metallo mattone e legno che cazzo vuoi di più vuoi loro no io non lo so e poi che hai detto anche lo non lo so tu l'hai detto bro hai detto io c'ho il metallo il mattone e legno ma non ci sono le ma le hanno tolte ma forse si non lo so bro non ne trovo mai non ne ho trovate ma c'è una cosa cinquanta ma la sua scala ne sono due spera ragazzo a voi ma hanno tolto le le fatture mi chiami un cazzo dio come si ma che minchia ne so cosa no ma devi dire con gentilezza perché sono tristi ce ne ha tolto ma va e fa mi chiami vengono a prendere storia troppo del cazzo tra un cettino dio minchia la vendetora non l'ho ancora trovata nella partita ragazzi sono le si chiamano dai ragazzi andiamo a vedere dove il lavoro c'è il rampino e il boot action il rampino lo voglio io e il bambino eh mi dispiace dai dammelo a me vuoi chiedermi uno scudino lasciato dammi rampino dammi rampino dammi rampino non ce l'ho dai dammi rampino dai ma non ce l'ho e dove l'ho lasciato lì nell'isop lo so e ora ci vado aspetto c'è anche uno scudino e anche il boot non c'è il ramo a noi da più non c'è il ampio ovvero dov'è cammino dov'è il rampino a posto a posto usare si no dai andola sei per lenta nostra moneta la sei per lentissima ragazza ma io il caccia è il bolt action ma perché alcuni ai droppi sono non lo so anche perché quelli che quelle di la terra ogni volta insieme alla cazzaposta e vediamoci gente a pensate in tipo un po' in che a spider mi sono spaiuto sui spai dai meno spider stai già a venire no no io io no no spara no io non ho sparato ragazza cosa è finita va andata pure l'high drop vediamo se trovo altri rampini ma io ho pure tre armi c'ho bro hitato uno hitato uno c'è questo no bro damme la merce le munizioni dammi c'è la munizione c'è gente che ha poco capitale in fondo venite sta già bene sta già one hit non sono bianchi con caro scuro sti aiutato uno aiutato uno poi dove ad hoc ho ho ammazzato l'ho ammazzato pure tu ammazzi ma io ammazzo è lui ragazzi lo può prendere che mica ragazzi ho due di vita ho due di vita dove sono dove sono dove sono dove sono dove sono dove prendo io i bambini rivendo io hai succo succoso no dalle dalle dammelo ti è proprio per esempio per questo non c'erano ragazzi non ne ho vende non ce ne ho qua ci sono qua ci sono alle aspas sto bene sto parendo e lascia tutti di lanciare ragazzi ragazzi si tieni 91 ne ho lasciato 90 euro eh no no c'ho lo scaracca mi devo prendere ancora andiamo dai tutti la tratta da 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 a te off ragazzi ma il lama è là sotto ma la cassa si la cassa il canone ma guaglio lasciatemi quello che fosse il possessore del lama si l'abbiamo capito quello che tu puoi noi no poi c'è il problema hanno preso l'hanno preso perché non lo scambiano capito se lo scambiano loro il coso stanno bastardo se lo scambiano il lama per farsi lo scudo ti bevo una pozzata cinquana eh vaffanculo le mere le mere prendo le mere che devo fare no bru vieni qua la pozza è cinquanta la pozza da cinquanta me la bevo che hai sparato gente raga io no raga il camion è qua sta atterrando il camion è qua da noi sta atterrando cercate di prendere il lama hanno appicchiato il suo minchia l'amore minchia l'ho visto ammazzato quello che c'è l'amore ah no raga lo stanno ammazzando veramente loro lo stanno ammazzando lo stanno ammazzando ah le baciano quello che c'è l'amore no non lo sto toccando quello che c'è l'amo ce n'è uno però lo stanno ammazzando comunque ragazzi l'ho atterrato stato quello che ha lama lasciatemi raga lasciatemi no bro 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 vedi qua perché non lo so se è quello con il lama no non è quello con il lama no ragazzi costruite costruite ragazzo no ragazzo siamo noi tre siamo ragazzi 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 minchia raga però dai così no impossibile giocare se voglio fare quello che vuoi io le sfide non le faccio fare più ragazzi siamo noi tre siamo rimasti ve ne rendete conto ma vai a cagare vince va basta vincere ragazzi vi prego vi prego basta non ci stava neanche sparando ragazzi non avete visto ma che cazzo dici che era tramera tramordino basta vieta e al tele fare nella prossima partita tre fare nella prossima partita ragazzi siamo rimasti noi siamo rimasti noi tre nella mappa me ne frega ragazzi siamo rimasti nella mappa ma i tre nella mappa siamo rimasti mi chiami tre reale ragazzi siamo rimasti in tre nella mappa ciao